Allora ragazzi, aria di servizio Arno Ovest, Giovanni Vandici. Non c'è niente qua, appelli, asciutto i capelli, non c'è, però c'è la presa. Un dito, perché è appena passata la signora. Buongiorno, allora io sono in viaggio, mi sono fermato all'Arno Ovest, sono partito alle 4 e un quarto dall'interporto di Bologna, però era tutto chiuso, bar niente, quindi giusto una lavata di faccia per riprendermi. E poi sono appunto arrivato all'Arno Ovest, dove mi sono fermato, ho fatto la doccia. Allora è un Chef Express, molto grande come aria di servizio. Ci sono tre docce, la doccia non si paga. Io ho le altre due docce, non lo so, le altre due locali docce non le ho viste, però dove sono andato, avete visto, è abbastanza grande, c'è pure il bagno. Non c'è l'asciugacapelli, però io ho utilizzato il mio personale. L'acqua non era calda calda, tiepida e pulito, perché era appena passata la signora delle pulizie. Nel complesso diamo lì un bel sette e mezzo. Buongiorno. Buongiorno.